Un nome nuovo nell'albotore dei vincitori del Memorial Mario Proietti Scorsoni. Al termine della quarta edizione, 102 iscritti, molti atleti, terza e seconda categoria in campo per un torneo open che è ormai un classico del tennis siciliano. E il giovane nisseno Marco Colore, 17 anni, a salire sul podio grazie al successo 6064 su Giuseppe Ricciardi, catanese e tesserato col Cubisi Caltanissetta. Un altro obiettivo centrato per la famiglia Proietti che a Gravina, come in ampia parte dell'Interland etneo, è un punto di riferimento da anni e del tennis e da alcuni anni lo è in maniera crescente del padel. Quattro le edizioni, con colore che si è aggiunto a Raffaele Marino, Alessandro Ingrao e Matteo Bongiovanni nell'albo dei vincitori, come quattro gli appuntamenti che in questo 2023 hanno animato le settimane in diversi periodi dell'anno all'interno del circolo. Tre open e un torneo giovanile. Alfia Cardillo, moglie di Mario Proietti, anche quest'anno presente per la premiazione dei finalisti di coloro che l'ultimo atto l'hanno sfiorato. Come il nipote Cristian Proietti, che nella storia della manifestazione è stato due volte semifinalista e di recente, nel vicino tennis Montpilieri di Catania, aveva battuto proprio colore in finalissima. Altro arrivato tra i primi quattro, Simone Consolo del Tennis School Montecatira. Giudici arbitri Giuseppe Caponnetto e Gabriella Barbagallo all'interno di un evento che vede anche per questa occasione il sostegno del ristorante Pudamuri, partner del Proietti Tennis e Padel da qualche anno. Gioco e compostezza dentro e fuori dal campo, elementi degni di una manifestazione di alto livello che si dà appuntamento al prossimo anno. Nel frattempo al Proietti si lavora per la scuola Tennis e Padel, magari rafforzando l'accademia femminile. E soprattutto si programma la stagione dei campionati a squadre con una Serie C da vincere dopo numerosi tentativi non riusciti. Un ottimo risultato, ho vinto un grande torneo fin dal primo turno, ottime vittorie, un grande torneo, importante. Al secondo ero sotto 4-1, lui ha iniziato a servire meglio, poi mi sono fatto breccare all'inizio e poi l'ho breccato e sono riuscito a recuperare. Comunque, ottimo secondo set. E ora finalmente sono riuscito a vincere il mio primo torneo Open. Cosa ti riserve il futuro? Ora devo andare a fare un altro torneo BNL a Caserta, che è l'ultimo della stagione, vediamo se riesco a prendere i punti per salire di categorie. La dedica di questo Memorial ha vinto per chi? Per mio nonno, che è il mio fan che mi segue sempre. Tu arrivi da Caltanissetta, patria importante per quanto riguarda il tennis, sicuramente una vetrina per tutta la città, tutta la provincia e tutto quel territorio. Sì, sì, abbiamo avuto per diversi anni un torneo challenge molto importante, ora l'anno prossimo dovrebbe esserci pure un 15.000, quindi speriamo bene per la mia città. Parteciperai? Sì, sicuramente sì. Ovviamente sono orgoglioso del mio risultato, seppur ieri abbia perso la semifinale, ma ovviamente il tennis è così, sono partite in cui magari non riesce a esprimerti al massimo e in cui soprattutto l'avversario riesce a esprimere il suo miglior tennis. Ed è quello che è successo ieri, oggi magari lui non ci è riuscito e per questo è arrivato un grande trionfo da parte di Colore. Io mi complimento con entrambi e con tutti i partecipanti di questo torneo. Sono contento anche del numero degli iscritti di questo torneo perché è raro che comunque in un torneo sull'erba sintetica si iscrivano così tante persone. Di solito sono numeri eseguiti dai tornei in terra battuta che sono più apprezzati soprattutto dal tennis amatoriale. Ci sono stati tanti iscritti di terza e seconda categoria e quindi abbiamo assistito a davvero tante belle partite. Prossimamente il prossimo torneo sarà a dicembre, il consueto torneo Open di Natale. L'anno prossimo poi anche in concomitanza con gli eventi che ci saranno a Catania, in accordo ovviamente con i tornei richiesti da noi alla federazione, vedremo il da farsi, sicuramente qualche torneo Open e un paio di tornei giovanili li faremo perché siamo sempre ben dediti anche alla crescita del tennis siciliano e non solo. L'immediato futuro di Cristian Progetti? Io continuerò ad allenarmi cercando di scalare per qualche posto la classifica di seconda categoria. Quest'anno ho già i punti per 2-7 ma temo che mi armonizzino di nuovo, però non è un problema, io gioco per divertirmi, ormai faccio l'istruttore quindi il mio lavoro principale è quello e le partite le utilizzo come sfogo per divertirmi perché il tennis è sempre parte della mia vita. Quest'anno abbiamo raggiunto quasi il top se non c'erano il campione siciliano di categoria o nazionale o chiunque vicino a lui, già un 14 seconda categoria in un torneo Open di cui 2-2-6 e molti diversi 2-7, 2-2-8 importanti che sono in ascesa, in notevole ascesa e devo dire che anche nel tabello di terza c'erano 11-3-1 quindi un torneo veramente grande ma non mi dilunco a parlare di questo perché c'è qualcun altro a cui compete. Volevo aggiungere un qualcosa su quello che è la nostra attività, la nostra attività principale perché ci sono delle novità per il futuro, delle novità di ampliamento di questo circolo, perché abbiamo fatto un piano di ristrutturazione partendo dal settore tecnico dove stiamo partendo finalmente da quello che era il settore più penalizzato, quello femminile. Noi avevamo una ragazzina che emergesse, adesso abbiamo composto dei gruppi di ragazzine under 12 che con Cristian e Danilo pensiamo di portare avanti e raggiungere un certo livello per essere competitivi. Per quanto riguarda le prime squadre non sto lì a dirla perché dopo quattro Final Four e una nazionale ci tenteremo anche quest'anno, questa volta, quest'anno mi voglio sbilanciare, andiamo col piglio di andare in fase nazionale perché abbiamo messo su già anzitempo una bella formazione di Serie C, speriamo che nella D1 riusciamo a fare altrettanto in modo tale da poter conseguire una doppia promozione e chissà anche con un over 45 che fa parte dei nostri progetti andare a vincere altro. Per il secondo anno consecutivo abbiamo raggiunto semifinale, terzo posto e finale nell'under 18, quest'anno contiamo di centrare il titolo regionale anche in questa competizione. Speriamo bene e speriamo che io sia portatore di buone nuove della nostra società.